Il trattamento del blocco percutane del ganglio stellato è un trattamento utilizzato da anni in terapia del dolore ma che negli ultimi decenni è stato anche evidenziato come sia efficace per quei pazienti che hanno uno storm aritmico quindi una patologia ad alta mortalità per interrompere l'aritmia e qualora le altre terapie soprattutto farmacologiche come amiodorone, lidocaina siano inefficaci. Il nostro studio è andato a effettuare un blocco che si effettua andando a iniettare 10 ml di anestetico locale che può essere lidocaina, bupivacaina, a livello del tubercolo anteriore della vertebra C6 che è il tubercolo anteriore di Chassegnac in modo che l'anestetico vada a bloccare proprio come fosse un'anestesia normale le fibre simpatiche e ferenti a livello cardiaco. Il blocco chiaramente si fa a sinistra quindi il blocco percutaneo del ganglio stellato di sinistra. In questo modo andando a bloccare le afferenze del nervo simpatico sul cuore si va ad agire a livello antiaritmico. Infatti i nostri cinque casi sono cinque pazienti con varie patologie di base dall'infarto acuto all'infarto subacuto, anche la cordiopatia ischemica cronica, la cordiopatia dilatativa, un paziente aveva una displasia ritmogena del ventricolo sinistro. Sono stati tutti trattati efficacemente con il blocco percutaneo con un azzeramento praticamente delle aritmie in pazienti che avevano ricevuto anche fino a 11-18 shock del defibrillatore che fosse interno o defibrillazione esterna e quindi è stato molto efficace nel togliere le aritmie almeno nella fase acuta. Una paziente è stata addirittura effettuata durante un ECMO quindi una procedura anche ad alto rischio di sanguinamento senza avere nessuna complicanza. I pazienti in cui questo blocco è stato effettuato mentre erano svegli e coscienti non hanno riferito dolore quindi è stata ben tollerata. L'ultimo paziente, il sesto paziente che non ho avuto l'opportunità di presentare perché è in realtà di pochi giorni fa, è un paziente in cui il blocco percutaneo è stato anche da ponte, è stato effettuato come ponte per un intervento di denervazione cardiaca in questo caso bilaterale che è stata fatta l'altro ieri nel nostro centro e il nostro centro è uno dei centri a livello mondiale con maggiore esperienza in questa tecnica chirurgica e quindi il blocco percutaneo può essere fatto o come trattamento di uno storm aritmico nel contesto di una patologia acuta che poi viene risolta come può essere uno stemmi acuto oppure anche in pazienti con una cardiopatia dilatativa che hanno un'instabilizzazione del quadro che porta allo storm aritmico come bridge per un intervento di denervazione cardiaca. Il nostro centro ha anche istituito un corso per gli operatori per poter imparare questa tecnica, un corso che possono fare anche i cardiologi, ricordiamo che nel nostro policlinico questi sei blocchi sono stati effettuati da un cardiologo e quindi sicuramente è importante che i cardiologi imparino questa tecnica oltre ai colleghi anestesisti il cui supporto rimane sempre fondamentale e chiaramente qualora il cardiologo non se la sentisse ci può essere l'anestesista a farlo anche per poter avere un'arma in più nel trattamento dello storm aritmico. Quindi il nostro centro sta formando i propri medici ed è anche disponibile a formare medici di altri centri nel caso vogliano venire a Pavia a imparare questa tecnica con un corso che in realtà dura una giornata perché la tecnica pur sembrando magari complessa in realtà è molto semplice e può essere fatta con un repero anatomico molto facile da trovare.